Vuoi fare una domanda a Marattina a proposito di come è andato il Partito Democratico? Così mi riposo. Voglio sapere se anche lui condivide i tweet delle Ascani, quello che hai fatto vedere adesso. Mi piacerebbe capire se anche lui condivide o se anche lui festeggia la vittoria, perché anche Renzi ieri ha vinto la sua sfida con la bilancia. Abbiamo visto la sfida con la bilancia, quindi nel giorno della vittoria anche lui festeggia una vittoria. Sentiamo Marattina. No, il PD ha perso. Il PD governava quella regione da 25 anni, adesso non la governa più. A volte la politica è anche più semplice di come la si voglia porre. La cosa mi crea qualche sconvolgimento psicologico, ma sono d'accordo con Villarosa. Dopo mi farò curare in qualche modo, perché è evidente che si devono confrontare le elezioni simili. Il PD nel 2014, cito Livorno, potrei sbagliare di qualche cifra, prese nello stesso giorno il 50% all'europea e il 20% o il 25% alle comunali. Cioè la stessa persona quando schede davanti votò in maniera così diforme. Quindi è evidente che le persone votano in maniera a volte anche sensibilmente diversa a seconda del livello di governo che si elegge. Detto ciò, ormai sono 4, 5, 6 elezioni locali di fila che il Movimento 5 Stelle sistematicamente dimezza comunque i consensi rispetto alle politiche. Quindi evidentemente un trend si intravede. Però anch'io ho sempre comparato elezioni simili e sempre continuerò a farlo. Ma proprio perché lo faccio, il PD rispetto a 5 anni fa ha preso una brutta sconfitta. Io non voglio fare polemiche, davvero, nel senso quindi non voglio usare toni eccessivi. È evidente che il momento di difficoltà politica del PD non dipendeva da Matteo Renzi. Non c'è bisogno di fare essere un renziano rancoroso per notare questo fatto. Così come è evidente che questa sconfitta non può certo essere attribuita a un segretario che è stato eletto settimana scorsa. Sta prendendo possesso adesso degli organismi di possesso, in brutto termine, sta prendendo responsabilità piena adesso degli organismi dirigenti del PD. Oggi mi pare c'è la prima direzione del nuovo corso Zingaretti. Ma a voi cos'è che non va bene? Cioè che ci sia magari un ritorno di tanti esponenti che sono andati via dal Partito Democratico? Democratico, li conosciamo tutti, da Bersani in poi. Cioè che cos'è che vi fa irritare? Ho il difetto a volte di essere eccessivamente coerente. Ho sempre detto che in un grande partito ci si confronta con idee alternative. La mia è nota da tempo, è più un'impostazione liberale democratica che guarda avanti. Ce ne sono altre nel partito. Le primarie hanno avuto un risultato chiarissimo. Ha vinto l'impostazione di Zingaretti che ha pieno diritto di impostare la sua linea politica come vuole. Ovviamente persone come me hanno pieno diritto, pur nell'unità del partito, negli organismi dirigenti, di contestarla se sarà difforme da quello che noi immagino. Ma a punto anche che se fosse così in disaccordo potrebbe lasciare il partito? Giacchetti mi pare l'ha annunciato. Se Zingaretti, ma come se tre anni fa Renzi avesse cominciato a dire porto il rapporto debito PIL al 180%, che ne so, mentre neanche le cose più assurde del mondo, insomma alzo le tasse a tutti, faccio esplodere la spesa pubblica, io avrei lasciato il partito. Perché in un partito si sta quando si crede nei valori e nelle politiche che mette in atto. Non è che si entra o si esce, se mi è simpatico, il segretario. Quindi chiunque voglia imprimere al PD una linea politica radicalmente diversa da quello che io piace, chiunque di noi si iscrive a qualsiasi organizzazione se ne condivide la prassi. No, chiaro. Quindi non è che ci... No, non è che ci...